Ragazzi vi ricordo che non ho fatto un video quando sono andato a Entomodena e perciò questo qua sarà un mini video fatto con tutte le foto che ho scattato a Entomodena, perciò mi invito a iscrivervi, lasciarvi un bel mi piace e buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!